Aveva trasformato un appezzamento di terreno posto all'interno di un anello boschivo in una folta coltivazione di marijuana dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 1200 piante di cannabis indica, oltre ad armi, munizioni e droga già confezionata. Per questo motivo un giovane di 22 anni con precedenti specifici è stato arrestato, la piantagione è stata distrutta. Ad effettuare l'operazione in un'area del Napoletano compresa tra torre annunziata e tre case sono stati gli uomini del comando provinciale del reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Napoli. La scoperta nello specifico è stata fatta dai finanzieri del gruppo di torre annunziata grazie alle apparecchiature dell'innovativo elicottero PH139D in uso alla sezione aerea di Napoli che durante i controlli quotidiani ha individuato delle culture sospette. Il sistema ha infatti permesso di effettuare delle riprese che hanno consentito di individuare i punti d'accesso alla piantagione e persino i sistemi di irrigazione installati. Le fiamme gialle hanno quindi avviato ulteriori accertamenti per individuare i soggetti che gestivano la piantagione e coadiuvati dall'alto e da terra dai colleghi della componente aereo navale hanno effettuato l'accesso all'area dove hanno rinvenuto le 1200 piante. La resa stimata della coltivazione sarebbe stata di circa 350 kg di marijuana per un controvalore di mercato di oltre 550 mila euro. Non solo, i finanzieri hanno anche appurato come all'interno di alcuni tubi per irrigazione vi fossero nascoste armi da sparo comuni e da guerra e un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti già confezionate. Sequestrati anche 4,7 kg di ascice e altre sostanze sottovuoto già pronte per essere immesse sul mercato. Come se non bastasse, la piantagione locale addibito all'essiccatoio e al confezionamento dei panetti di ascice e delle dosi di cocaina erano collegati abusivamente alla rete elettrica nazionale.